Tre punti per prendersi la matematica certezza del secondo posto, la qualificazione al secondo turno dei play-off e la possibilità di disputare lo spareggio tra le muramiche dello stadio di Noriotta. Il match con l'Atletico Gela lascia questa importante eredità allicata che a meno di clamorosi cali di tensione sembra avere la strada spianata verso l'eccellenza. Il cambio in panchina ordinato dalla società due giornate dal termine ha portato un fatturato notevole ai Gello Blu che con il duo Grillo Vecchio e La Guida hanno ottenuto due vittorie consecutive nella fase cruciale della stagione. L'incontro con l'Atletico Gela è stato ricco di gol, con illicata che non ha fatto regali, realizzando quattro reti nella prima frazione, salvo subire la parziale rimonta gelese nella seconda parte di gara. Di Vennero, Cannizzaro, Montesanto e Martorana le reti illicatesi nel 4-2 alla compagine gelese. Scendento in terza categoria sconfitta esterna per l'Atletico Licata, battuto 2-1 sul campo del Muxer. Succede tutto nella parte finale del primo tempo. Padroni di casa in vantaggio al 35esimo con Scariti, pari illicatesi al 40esimo con Zarbo e nuovo vantaggio del Muxer al 46esimo con Dinolfo. Chiudiamo con il basket. Ultimo atto della stagione per la studentesca vivere e viaggiare Licata. Gli uomini di Coaccetto Recastorina sono stati di scena sul campo del Patti. 87-71 il punteggio finale per i padroni di casa che hanno fatto valere le maggiori motivazioni nel ricercare la vittoria. Studentesca rimasta però quasi sempre in gara onorando così fino alla fine un torneo di Cisilver che l'ha vista grande protagonista con una salvezza centrata con largo anticipo.